Tutti insieme, vescovi presbiteri, persone consacrate e fedeli laici, dobbiamo offrire la testimonianza di una Chiesa fedele a Cristo, animata dal desiderio di servire i fratelli e pronta ad andare incontro con coraggio profetico alle attese e alle esigenze spirituali degli uomini e delle donne del nostro tempo. Così oggi Papa Francesco, alla recita mariana dell'Angelus, dopo aver celebrato la messa nella Basilica di San Pietro, il Pontefice è tornato a parlare del clima di festa di questi giorni per la creazione di 19 nuovi cardinali, un'occasione preziosa per sperimentare la cattolicità della Chiesa, ben rappresentata dalla variegata provenienza dei membri del Collegio Cardinalizio. Invitando tutti a dare testimonianza a tutti i giorni della tenerezza e dell'amore del Signore, Papa Francesco ha infine rimarcato l'importanza dell'unità della Sposa di Cristo. Per il battesimo infatti abbiamo la stessa dignità, tutti in Gesù Cristo siamo figli di Dio. Così coloro che hanno ricevuto un ministero di guida, di predicazione, di amministrare i sacramenti ha concluso, non devono ritenersi proprietari di poteri speciali, ma porsi al servizio della comunità, aiutandola a percorrere con gioia il cammino della santità.